Simone Benamati, ruolo? Portiere. A che giocatore ti piacerebbe assomigliare e perché? A Buffon perché è il mio idolo e gioco nella squadra del mio cuore. Il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Alessandro Pavaluta e Nicolas Bernotini. Quali ritieni essere i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? I miei pregi sono che sono molto bravo nelle uscite basse e nelle parate difficili, difetti, che sbaglio, molte parate facili e molti rinvii. Numero di maglia preferito e perché? Uno perché è il giocatore che è alla maglia, cui gioca il portiere e perché mi piace il numero uno. La tua materia scolastica preferita eccetto ginnastica? Cina perché faccio la bottiglia. Il tuo sport preferito oltre al calcio? Oltre al calcio il mio sport preferito racchettoni d'estate e d'inverno qua a lavoro. E cosa rappresenta il calcio per te? Il calcio per me è uno sport che ti devi divertire e è indipendente dai risultati. Se vai bene, bene, se vai male. Per quale squadra fai il tifo? Juventus.